Ciao, siamo i tizi senza testa, vedete? Adesso vi faremo vedere come vanno veloci tizze senza testa. Guardate, guardate bene. Stop! I tizi senza testa vanno veloci. Un chilometro. Un chilometro? Un po' meno, però. Un po' meno. Lo sapete? Noi siamo proprio bravi ad andare in skateboard. Nessuno si batte. Sì, guardate. Come vedete, in questa immagine, c'è uno skateboard. Sì, c'è un bello skateboard. Adesso togliamo l'immagine. Ecco, e guardate. Al mio via partiremo in skateboard. Prendi il tuo skateboard, Kevin. Ecco, tre, guardate, così. Tre, due, uno, via. Sono un bello. Uh, si è stati bravissimi. Ora, scendendo dalle scale, ci prenderemo una bella bibita. Eh, adesso scendiamo, eh. Sì. È finita. Un po'. Ci voleva proprio una bella bibita, eh. Ma come hai fatto a bere? E tu come fai a parlare? Ciao, ciao. Ciao. Ciao, sfiga. Adesso dobbiamo stare fermi, perché devo sparire. Fermi, copiami. Saloni. Grazie.